La Capitaneria di Porto, soprattutto nel periodo estivo, è molto operativa, intanto controlla le aree che sono il demanio. Recentemente a Marsala sono state sequestrate due spiaggette di due lidi, proprio per rispettare la legge e tutelare l'ambiente lili-betano. Perché sono stati effettuati questi due sequestri? Sì, sicurezza della balneazione e tutela dell'ambiente e di tutta la fascia costiera sono senz'altro le nostre priorità nel periodo estivo tutto l'anno, ma con maggiore concentrazione di risorse durante il periodo estivo. Nello specifico, di recente, abbiamo sequestrato amministrativamente due tratti di arenile, quindi due tratti di spiaggia, per una violazione del testo unico ambientale sul riposizionamento di materiale proveniente da altri siti all'interno della concessione, senza una verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. E dal punto di vista dell'attività di ristorazione, di intrattenimento, comunque i lidi sono operativi? Sì, l'elemento economico è stato tutelato, è stata sottratta soltanto la fruibilità della spiaggia, in attesa delle determinazioni dell'autorità competente che è la Regione, per il ripristino eventuale del luogo. L'attività di controllo da parte della Capitania Riporto non ha riguardato soltanto e riguarderà nel prossimo futuro i lidi, ma insomma riguarda tutte quelle attività che possono ledere all'ambiente e quindi il controllo sulle attività di carattere economico che sono correlate. In questi mesi del 2024, in prossimità proprio dell'estate, quali altri controlli avete effettuato? L'attenzione ambientale sul territorio di Marsala e di Petrosino è sempre stata elevata da parte di questo ufficio, non soltanto durante la stagione estiva. Sin dai primi mesi del 2024 abbiamo operato a tutela dell'ambiente allo stagnone nella rimozione dei pericoli sommersi, pericoli sommersi che oltre ad inquinare cagionavano anche un pericolo per la sicurezza dei bagnanti che poi durante il periodo estivo sono fruitori appunto di quel tratto di mare. Sempre nel territorio di Marsala e di Petrosino abbiamo accertato violazioni amministrative in materia ambientale su i atolavaggi e anche su altri esercizi commerciali. Abbiamo anche accertato delle violazioni sempre in materia ambientale da parte di privati cittadini che abbandonavano rifiuti sul pubblico demanio marittimo in maniera indiscriminata.